allora eccoci eh buongiorno a tutti eh siamo qui a questo primo incontro del corso di formazione supercorso formativo tutelare e promuovere la salute mentale dei migranti forzati eh io sono Raffaele Bacalenti sono il presidente dell'istituto psicoanalitico per le ricerche sociali e come istituto noi abbiamo avuto un progetto finanziato dalla Open Foundation che ci ha permesso di fare una verifica di quelle che sono le condizioni di presa in carico dei migranti nelle strutture di accoglienza e di produrre anche eh delle linee guida per suggerire forse una un intervento eh di rafforzamento della della presa in carico perché il sistema si è scontrato con un poche criticità eh ma mh soprattutto ci è sembrato importante eh chiedere alla società italiana di psichiatria di avviare questo percorso per fornire anche momenti di riflessione su un tema ehm che non possiamo definire nuovo ma certamente sul quale eh è importante avere un consiglio di incontro di confronto sulle sulle modalità di presa in carico sui problemi che pone eh la la ehm l'interazione con pazienti che hanno specificità culturali, linguistiche, condizioni di vita e quindi siamo stato particolarmente felice che la società abbia aderito a questa nostra a questo nostro invito e sia qui eh rappresentata dai suoi presidenti a sostenere questo percorso di formazione e quindi passo la parola a Enrico Zanalda che ringrazio ancora così come Massimo di Gian Antonio di essere con noi per eh introdurre questo corso di formazione. Grazie, grazie Bracalenti davvero. Credo che eh sia importante come dicevi giustamente affrontare continuamente questo discorso dei migranti, in questo caso dei migranti forzati anche perché non è un non è un argomento nuovo ma è un argomento che è sempre nuovo perché cambiano le condizioni, cambiano le popolazioni e quindi all'aggiornamento in questo campo e fornire delle eh degli strumenti eh ai colleghi che si trovano a dover affrontare delle situazioni eh così difficili, così complesse, sovente anche in ambiti. Io penso anche agli autori di reato, molte volte capita, adesso non saranno rinforzati, ma avere a che fare con eh persone che vengono da altri paesi, con culture diverse e che quindi ehm hanno una una espressione psicopatologica anche lievemente diversa e si trovano ad affrontare situazioni complesse come quelle che capitano nella nostra società. Quindi eh io credo che a nome di tutti gli psichiatri non possiamo che essere contenti e soddisfatti di aver organizzato questo corso in particolare eh eh voluto da Giulio Corrivetti e da il presidente universitario il ehm professor Massimo Di Gian Antonio a cui cedo volentieri la parola. Buenvenuto a tutti e spero che eh sia di vostro gradimento. Grazie presidente Zanalda, grazie di questa introduzione e devo dire che sono fiero ed orgoglioso di aver costruito insieme a te Enrico e insieme a Giulio Corrivetti questo fruttuoso e fecondo incontro con Raffaele Bracalenti e l'Istituto delle ricerche psicoanalitiche sociali. È un incontro di eh forze culturali, di proposte, di progetti su uno dei temi più delicati eh mi mi viene alla mente il forte messaggio pronunciato da sua santità eh esattamente la settimana scorsa che è quello di costruire i ponti, abbattere le barriere, accogliere le persone che sono in difficoltà ma accanto al tema globale generale di una società liquida come quella che viviamo tutti i giorni non posso non ricordare ai partecipanti la ricchezza e la complessità del progetto culturale che abbiamo realizzato insieme. Pensate alle relazioni di oggi, migrazioni forzate e salute mentale, sfide, esperienze e modelli, oppure accogliere i bisogni di salute mentale dei migranti forzati, l'esperienza del centro Samifo e poi migranti forzati e doppia diagnosi, quindi temi che hanno a che fare certamente con la eh questione migratoria, certamente la questione della migrazione forzata ma anche con i temi decisi e specifici della psichiatria moderna nuova che dobbiamo costruire, che dobbiamo far evolvere. Nel secondo incontro che si terrà il diciassette gennaio eh la relazione l'apporto dell'etno psicoanalisi per la cura della salute mentale delle popolazioni dei migranti e poi la psicopatologia della migrazione, costruire un approccio transculturale nei servizi di cura ed esperienze di cura con i pazienti di origine nigeriana, ci dice come abbiamo voluto e potuto accendere un faro di riflessione di attenzione sui temi più complessi e poi il 7 febbraio la relazione di eh Maria Antonella Costantino che è stata la past president dell'associazione della società italiana di neuropsichiatria infantile che ci parlerà del caso dei minori stranieri non accompagnati, la relazione di Giuseppe Ducci, migrazioni e adozioni come fattori patogenetici, l'esperienza di un servizio di salute mentale dedicato all'adolescenza, la relazione di Giancarlo Santone e di Angelo, di Angela Giganti, accogliere i minori eh stranieri nei servizi di tutela della salute mentale, la riabilitazione in età evolutiva e poi la relazione di Simona Gioia che ci dirà il ruolo della eh cultura nelle pratiche di cura. Quindi una galoppata ed una sintesi di un problema di salute pubblica, un problema clinico, un problema scientifico al quale siamo stati onorati di poter collaborare e credo che sarà un viaggio prezioso per tutti quelli che potranno partecipare e a loro volta dare il loro contributo e con questo auspicio che io eh ridò la parola a eh Raffaele Bracalenti e a Giulio Corrimenti. Caro Massimo grazie di questa di queste parole soprattutto insomma di aver ricordato anche come abbiamo cercato di costruire e con grazie appunto alla società italiana di psichiatria un percorso ampio che toccasse aspetti diversi eh molto anche attente alle alle sfide cliniche che le immigrazioni comportano. Io devo ringraziare particolarmente nel passaggio della parola Giulio Corrivetti sia per la disponibilità con cui Dipartimento di Salerno ehm ci ha aiutato e ci sta collaborando con noi in iniziative anche per molti persi un forte carattere innovativo eh sia per l'entusiasmo con cui ha ha sostenuto questo corso di formazione. Quindi Giulio a te la parola. Sì grazie io ringrazio innanzitutto i miei due presidenti che hanno colto l'importanza di questa esperienza ci hanno credo con questa iniziativa al momento affiancato ma credo che insomma il supporto della società italiana di psichiatria sia eh molto sensibile proprio perché orientata non solo alla buona qualità dell'assistenza a promuovere cultura scientifica ma soprattutto a promuovere eh una dimensione valoriale nel campo della salute mentale cioè credo che il futuro che ci aspetta soprattutto sulle prospettive di innovazione debba tenere ben saldo l'attenzione ai valori ben affatto Massimo di Gian Antonio nel ricordare le parole del nostro Papa di Papa Francesco che ci sollecita sempre ad avere una sensibilità quando lavoriamo per l'altro come il campo della salute mentale fa e fa costantemente. Il ringraziamento lo faccio anche a te Raffaele perché in un certo senso da quando è iniziata la nostra collaborazione la promozione di idee di opportunità e di iniziative come questa di SciCare eh e su quelle di Capacity Building ed altro è stata veramente molto interessante. Io prima di dare la parola al primo relatore però volevo anche dire su questo settore l'istituto e noi eh ci ha trovato insieme i appunto impegnati anche in un programma di ricerca quindi abbiamo sviluppato con un programma eh pending o una valutazione nei diversi centri non solo della provincia di Salerno e di Avellino quindi di una significativa parte del territorio della regione Campania su un numero altrettanto significativo di migranti forzati eh le difficoltà psicologiche le condizioni clinicamente significative nel campo psichiatrico. I dati sono ormai quasi pronti per cui quanto prima riusciremo a dare a tutti quanti e questo è un invito che faccio anche ai partecipanti se si vogliono segnalare pubblicando i dati ma potendoli presentare anche anticipatamente una ricerca che ci ha dato forti indicazioni che ci ha aiutato anche a rivedere alcuni dei percorsi assistenziali in un territorio specifico per quanto riguarda i piani di inclusione tanto nella rete ospedaliera che quella specifica territoriale dei centri di salute mentale. Io non voglio dilungarmi oltre sto per dare appunto la parola a Massimiliano Aragona. Lavoro in un centro che è collaboratore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche un centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario cioè l'istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà l'INMP e questo è un centro che diciamo ha acquisito ora un grosso know-how e soprattutto che è un punto di riferimento ribadisco chiaro ed inequivocabile quindi non a caso iniziamo oggi da lui con il suo intervento sul tema che Massimo di Gian Antonio ha già citato migrazioni forzate salute mentale sfide esperienze e modelli. Massimiliano a te la parola. Allora grazie mille grazie a Raffaele per l'invito e l'organizzazione dell'incontro e per tutto il coinvolgimento che c'è stato nel corso di questo progetto insomma la scrittura delle linee guide eccetera e vi porto i saluti del nostro direttore generale la dottoressa Mirisola e noi come istituto che afferisce al Ministero della Salute siamo impegnati da anni in questo campo come vi dicevo prima non solo riguardo ai migranti ma in generale per tutte le situazioni di povertà quindi anche le fasce della popolazione italiana che si stanno impoverendo e con un'attenzione particolare ai determinanti sociali della salute. Oggi mi avete dato un titolo abbastanza impegnativo sfide esperienze modelli molto ampio cercherò in mezz'ora di dare almeno alcuni punti salienti almeno alcuni elementi che secondo me andrebbero sottolineati e quando si approccia a queste problematiche. Innanzitutto migranti forzati termine molto ampio neanche bellissimo che però insomma fondamentalmente ci fa capire che le persone non hanno pianificato non hanno avuto il tempo di pianificare e scegliere una migrazione per migliorare le proprie condizioni di vita lavorative eccetera eccetera ma in qualche modo si sono trovati costretti a lasciare il posto dove vivevano e a migrare quindi arrivando nel nostro caso fino all'Europa. C'è da dire però che questo termine non identifica un gruppo omogeneo di persone ed è molto legato anche al tipo di politiche che noi come paesi che poi di accoglienza facciamo nel senso che ormai da qualche anno i migranti economici in Europa non possono entrare non si è capito perché non ci siano più dei flussi di migrazione legale e regolare legati alla problematica puramente economica e quindi fondamentalmente uno dei rischi e una delle problematiche che abbiamo avuto negli ultimi anni è un aumento spropositato del numero di migranti forzati e di richiedenti asilo. Questo comporta un grosso problema soprattutto nei servizi di accoglienza perché i numeri cominciano a essere importanti. Con differenze ricorderete nel 2016 abbiamo avuto numeri molto più alti di quelli attuali poi abbiamo avuto un calo e adesso da qualche anno c'è una ripresa dei numeri. Numeri che cambiano fortemente anche in base alle condizioni geopolitiche mondiali. Noi non siamo un paese che ha una tradizione di immigrazione specifica come possono essere paesi coloniali di lunga tradizione penso all'Inghilterra, la Francia eccetera e quindi tendenzialmente con la nostra posizione centrale nel Mediterraneo tentiamo a intercettare flussi migratori più disparati che prevalentemente vengono dall'Africa ma come sapete non solo. Nel senso che le persone che ormai arrivano dalle frontiere est e dalle frontiere del nord cioè che hanno già passato altri paesi europei prima di arrivare in Italia sono sempre più numerosi. La prima cosa che mi sentirei di dire parlando di immigrazioni forzate noi vediamo questa cosa dal punto di vista della salute mentale però stiamo attenti a non psichiatrizzare tutto. Il fatto che la persona abbia dovuto scappare da un paese e arrivare senza avere pianificato il proprio viaggio in Italia è una situazione che comporta alcuni aspetti di vulnerabilità ma questo non vuol dire che necessariamente questo vada inquadrato nell'ambito della salute mentale debba per forza dare problemi di salute mentale. Anzi sappiamo che pure persone che hanno esperienze traumatiche importanti e più rilevanti come quelle che purtroppo frequentemente i nostri pazienti ci raccontano non sempre sviluppano necessariamente dei sintomi perché c'è tutta una dinamica tra fattori di vulnerabilità e fattori di resilienza che fa sì che poi l'emergenza sintomatologica possa o non possa avvenire in varie condizioni. E qui come dire introduco subito il fatto che il supporto sociale sembra essere uno degli elementi particolarmente importanti nel cercare di far sì che lo sviluppo di questa traiettoria di vita non vada verso una deriva che sia di tipo psicopatologico. Come esseri umani noi condividiamo delle cose tutti quanti abbastanza simili. Poi abbiamo delle cose che sono più specifiche in base a dove siamo nati, qual è il contesto di provenienza sociale, culturale eccetera e poi abbiamo delle cose che sono tutte nostre. E anche nei nostri pazienti ovviamente abbiamo questi vari livelli. Perché i migranti forzati come tutti i migranti condividono quell'elemento che noi chiamiamo stress della trasculturazione che è quello spaesamento legato al fatto di arrivare in un paese diverso con usi e costumi diversi magari avendo perso tutta una serie di caratteristiche che erano propri della propria vita tra cui anche lo status sociale per cui magari persone che avevano studiato si ritrovano a partire da livelli diversi della società magari si ritrovano in un centro di accoglienza senza più le case eccetera eccetera e questo comporta uno spaesamento che è sociale, culturale, economico e in qualche modo uno stress che può prendere una via psicopatologia ma per fortuna non necessariamente, anzi di solito direi che è una cosa che tende ad autorisolversi nel senso che molti migranti sono consapevoli di essere in un cammino di trasformazione e in qualche modo sono abbastanza pronti a riadattare le proprie aspettative e la propria vita in base alle condizioni nuove. Questo è un elemento che spesso negli studi sull'immigrazione non viene sottolineato cioè la capacità e la flessibilità dei migranti che fa sì che la capacità di adattarsi ai nuovi contesti e creare valore e creare situazioni positive nei nuovi contesti è particolarmente presente in queste popolazioni. anche perché si tratta spesso di persone giovani che arrivano con molta voglia di cambiare, di lavorare eccetera eccetera. Rispetto a questo poi c'è tutto il problema di caratteristiche più specifiche. Tra i migranti forzati sappiamo che una delle cose che da qualche anno ci coinvolge di più come clinici è la parte psicopatologica che ha a che fare con la reattività ai vissuti traumatici importanti. Vi dicevo non tutte le persone che hanno questa condizione di migrazione forzata, non tutti i richiedenti asilo necessariamente devono aver subito traumi prima della partenza del loro paese, però sappiamo che una parte ahimè lo ha fatto. Ci sono persone che fuggono da condizioni di guerra, ci sono persone che fuggono ad esempio da condizioni di violenze locali molto importanti, molto frequenti. Si parlava prima della Nigeria, ad esempio tra le tante relazioni che sentivo in programma. I nigeriani spesso arrivano da situazioni che sono prettamente locali, legate al contesto sociale dove sono cresciuti. E poi abbiamo i problemi delle dittature. Molte persone partono dal paese dopo essere state incarcerate, dopo aver subito vere e proprie sessioni di tortura organizzata. Alcuni paesi sono ben noti per questo, non li nomino ma insomma credo che vi verranno in mente. E quindi arrivano, partono già con una esperienza traumatica importante all'origine. E poi ci sono ulteriori problemi perché sapete che noi prendiamo dal sud tramite gli sbarchi in Sicilia, in Calabria, in Sardegna, gran parte di persone che arrivano dalla rotta libica. E sappiamo tutti, perché ormai è cosa ultranota, che il passaggio in Libia comporta, benché vada, l'imprigionamento, la riduzione per un periodo in semischiavitù se non in schiavitù, con condizioni dal punto di vista umano e logistico estremamente degradanti. E quindi carceri affollati, situazioni di incarceramento con percosse, con scarsissima possibilità di accedere al cibo, igiene chiaramente totalmente assente. E questo come livello che purtroppo è abbastanza trasversale, cioè è difficilissimo trovare una persona che sia passata dalla Libia che non abbia avuto questa situazione qui. Molte persone però non hanno solo questo, ma subiscono ulteriori elementi di tortura molto pesanti. Non entro nei dettagli perché sapete che poi le esperienze traumatiche hanno un po' di possibilità di contagiare in qualche modo anche l'uditorio, però vi assicuro che le situazioni che i nostri migranti passati dalla Libia ci raccontano sono situazioni di estrema violenza, violenze ripetute nella maggior parte dei casi a scopo di riscatto, nel senso che molti di queste persone vengono filmate nel momento in cui gli viene perpetrata la violenza e poi i video vengono mandati ai familiari sperando che questi accettino di mandare quei soldi che le persone non avevano con sé. Questa è una delle tante cose. Ovviamente io ho anche molti report di violenze che sembrano abbastanza gratuite, cioè non finalizzate a ottenere qualche cosa, ma legate semplicemente a dinamiche che scattano tra carcerieri e persone imprigionate. Carceri che sono sia formali, cioè del governo, sia informali. Ok, vado veloce perché se no perdo tutto il tempo con questo, però questo fa sì che poi una volta arrivati in Italia noi vediamo quella cosa che è abbastanza caratteristica in una parte di quelli che saranno poi i nostri pazienti. All'arrivo, a meno che non siano estremamente provati dal viaggio, stremati, non abbiano subito un naufragio, non abbiano avuto lutti immediati, per cui se no avete situazioni estremamente pesanti dal punto di vista della salute mentale, ma altrimenti subito dopo l'arrivo le persone sono stanche, ma in qualche modo contente di essere arrivate finalmente a destinazione, o almeno loro pensano che questo possa essere, cioè finalmente sono in Europa. In realtà l'Italia, almeno fino a qualche anno fa, era soltanto un paese di transito, non era il punto realmente di arrivo del viaggio. Dopodiché a scoppio ritardato, dopo qualche tempo, quando le persone vengono messe in un centro di accoglienza, cominciano a non avere più l'esigenza di stare ben presenti perché ha il rischio di vita immediata, eccetera, il pensiero comincia ad insinuarsi e cominciano ad arrivare alle classiche reazioni post-traumatiche. Le reazioni post-traumatiche sono fondamentalmente delle reazioni, tra virgolette, normali in situazioni che sono quelle, le situazioni in cui hanno vissuto le persone anormali, nel senso che molte persone di fronte a questo tipo di eventi hanno la possibilità di sviluppare questo tipo di reazione e sono reazioni anche abbastanza transculturali, nel senso che alcuni dei sintomi tipici delle reazioni post-traumatiche sono portate da vari pazienti che vengono da varie parti del mondo in modo abbastanza simile. Ovviamente c'è sempre una sfumatura culturale, c'è sempre una sfumatura legata a come sei fatto tu come persona, però alcuni dei fenomeni tendono a rivedersi in modo abbastanza trasversale al di là della cultura di provenienza. I sintomi sono quelli che conosciamo tutti e che vi ripeto con grande brevità per chi non ha dimestichezza, sono l'intrusione di memorie, ricordi, flashback eccetera eccetera che ripropongono continuamente quello che si è vissuto, cioè come se la persona non riuscisse più a lasciare il passato nel passato e guardare avanti, ma questo passato incombesse in una circolarità temporale che continuamente si ripresenta senza progredire e ritornasse continuamente alla coscienza facendolo soffrire. La persona, uno degli eventi più classici che noi clinici spesso ahimè osserviamo dal vivo è il cosiddetto flashback, la persona che parla con voi che improvvisamente si dissocia, stacca la coscienza come se fosse uno stato di trance e mentre parlava con voi normalmente adesso improvvisamente da un momento all'altro comincia a litigare, a gridare, a difendersi, a gettare bombe eccetera eccetera, un po' quelle cose che avevano osservato i primi clinici all'inizio del novecento dopo le guerre mondiali quando si parlava di traumi, nevrosi traumatiche, traumi da guerra eccetera eccetera. Questo dura qualche secondo, qualche minuto, dipende dalla situazione, a volte ci sono crisi dissociative che possono durare anche molto di più e poi si va in risoluzione e la persona ritorna presente nel colloquio. Durante queste cose viene riproposta continuamente quella che è stata la scena vissuta, questa è la cosa più tipica che noi vediamo e che si ripropone un pochino dappertutto, nel senso anche i pensieri sono di questo tipo, i ricordi sono di questo tipo e anche se vanno a dormire i sogni sono di questo tipo, cioè le persone si svegliano con degli incubi in cui viene riproposto continuamente quello che hanno vissuto. Direttamente esattamente quello che hanno vissuto spesso scene che più o meno lo ricordano e che hanno comunque quella coloritura emotiva, cioè non è detto che nel sogno ci sia l'esatta riproposizione ma comunque la scena è quella traumatica che si ripropone. Questo ci porta quindi a una prima cosa da sottolineare, cioè emergono delle reazioni post-traumatiche importanti che hanno bisogno di essere riconosciute per tempo e hanno bisogno di essere prese in cura per tempo. Che tipo di emersione possiamo fare con queste persone? Beh, innanzitutto io direi che dobbiamo stare attenti a quelli che sono i cosiddetti sintomi sentinella, cioè il non dormire la notte perché quando vado a letto comincio a pensare non riesco a prendere sonno e poi appena mi addormento sfinito mi arriva l'incubo che mi risveglio eccetera eccetera fa sì che io continuamente non dormo e quindi durante il giorno sia sonnato, la mattina faccia fatica ad alzarmi dal letto e così via. Questa è una cosa grossolana che però ogni operatore di un centro di accoglienza ha imparato a riconoscere e quindi a segnalare come una possibilità. Non è che questo fa fare la diagnosi però aiuta l'operatore a segnalarceli. Un'altra cosa molto importante è il fatto che molte di queste reazioni vengono vissute attraverso il corpo. Ad esempio pensate alle cefalee di tipo post-traumatico, la persona tutte le volte che gli ritornano i pensieri comincia a soffrire di cefalea, non riesce più a pensarci, non riesce più ad andare avanti e così via. E anche questo è una di quelle cose che può essere colta abbastanza frequentemente perché la persona magari non sa di avere un disturbo post-traumatico, quindi non sa di poter chiedere aiuto per quella cosa specifica, ma magari va dall'operatore chiedendo un cachet per il mal di testa e quindi quello può essere un altro punto di incontro, di emersione e di segnalazione. Così come un altro punto di emersione e di segnalazione può essere la difficoltà di attenzione, concentrazione e memoria che è abbastanza tipico di persone che hanno questo tipo di disturbi post-traumatici e che spesso viene rilevata ad esempio quando le persone vanno a fare il corso d'italiano. Tu gli chiedi, stai facendo il corso d'italiano? Sì, e quando il maestro parla tu riesci a seguire? Dice sì, qualche minuto sì, poi piano piano la mente comincia ad andare via e io mi risveglio tra virgolette a fine lezione che non ho più preso appunti, non ho più ben capito dove andavamo appare. Questo è un po' riguardante l'emersione. Riguardante la presa in carico, noi anni fa di trauma ne parlavamo pochissimo, c'è stato per tutta la seconda metà del Novecento in qualche modo la dimenticanza delle problematiche post-traumatiche nella psichiatria e nella psicologia, non se ne parlava quasi per niente. Negli ultimi anni invece questa cosa è di nuovo tornata in primo piano e oggi sappiamo che ci sono varie modalità con cui questa problematica può essere approcciata. La cosa fondamentale quando parliamo di modelli è che i modelli però non devono essere dei modelli in cui c'è lo psicologo e il paziente, lo psichiatra e il paziente all'interno di una relazione duale strettamente professionale abbiamo risolto la questione, perché l'intervento in questo caso deve essere necessariamente di tipo transdisciplinare comprendendo una serie di professionisti e una serie di piani che devono essere tutti in qualche modo presenti. Sto pensando ad esempio a tutta la parte del supporto sociale, un sistema d'accoglienza che non sia supportivo abbiamo visto in vari studi essere fonte di ritraumatizzazioni, di peggioramento delle prognosi di questi pazienti e ahimè spesso il sistema italiano di accoglienza non è così forte nel creare empowerment, nel creare supporto e nel creare autonomia da parte dei pazienti. L'allungamento dei tempi burocratici e le pastoie burocratiche in cui queste persone si ritrovano, sapete che ci sono persone che rimangono 5, 6 anni, 7 anni senza ancora avere un permesso di soggiorno, senza poter trovare un lavoro, senza potersi pagare una casa, rimbalzati da un centro all'altro finché non finiscono in strada. Queste sono dinamiche di marginalizzazione progressiva che hanno un fortissimo impatto poi per quello che sarà la salute mentale, non ultimo su quello che poi sarà anche abuso di sostanze, di alcol e così via. E poi tutto quello che la rete comporta. Non ultimo c'è tutta una parte che va implementata all'interno dei servizi che supportano questo tipo di problematiche che ha a che fare con il riconoscimento di quello che ha vissuto e con la possibilità in qualche modo di attestarlo in una relazione clinica. Qui di nuovo lo psichiatra e lo psicologo sono sicuramente figure in primo piano, ma tante altre figure professionali. Pensate al dermatologo che deve verificare le cicatrici e provare a tirare fuori un nesso di causalità tra quello che vede e le torture che il paziente racconta. Pensate all'ortopedico e al fisiatra che intervengono rispetto alle fratture che le sono state fatte in modo traumatico durante l'incarcerazione con magari spesso problematiche perché non sono poi state curate, ingestate eccetera, quindi tutta una serie di problematiche a lungo periodo e così via. C'è tutta una complessità che fa sì che necessariamente il servizio debba essere un servizio multidisciplinare. Due punti ancora vorrei sottolineare, credo che nei tempi ci siamo abbastanza, quindi vado bene. Un concetto che noi crediamo sia particolarmente importante è quello di ritraumatizzazione. cioè tenete conto che persone così gravemente traumatizzate in un momento o in più momenti della loro vita tendono ad avere ritraumatizzazioni secondarie anche nel futuro e tendono ad avere situazioni ritraumatizzanti che magari di per sé non avrebbero un potere psicotraumatico così forte ma che richiamando alla mente quello che era successo prima non fanno altro che in qualche modo acuire di nuovo, mettere come dire la lama nella ferita che ancora non è rimarginata. Ci sono varie situazioni nella vita post migratoria quando le persone arrivano in Italia e cominciano a girare in Europa che sono di tipo ritraumatizzante e che sono assolutamente da prevenire. Pensate ad esempio alle reclusioni che avvengono nei vari paesi europei. Io ho frequentemente il report di pazienti che arrivano dal nord Europa e mi dicono di essere stati picchiati in modo piuttosto brutale dalle varie polizie dei paesi del nord Europa. Pensate alle donne che vengono messe in percorse di tratta e quindi di nuovo tutto quello che comporta le percosse le nuove traumatizzazioni eccetera eccetera. Pensate alle persone che finiscono in strada che è vero che quando le vediamo lì ci inquietano ma in realtà dovrebbero essere, sono spesso più inquietate loro nel senso che sono persone esposte agli eventi della strada e quindi spesso oggetto di violenza. Una delle prime cose che ho imparato lavorando con queste persone è che quando non dormivano la notte io gli dicevo ti do una terapia per dormire e loro mi dicevano sì così io mi addormento e mi mettono fuoco durante la notte eccetera eccetera e quindi capite bene quanto poi l'intervento in quei contesti diventi anche particolarmente complicato per cui magari ho qualcosa che ti alleverebbe il sintomo ma dall'altro lato se la condizione di marginalità sociale è così forte la situazione si incarta e non riesco bene a darti una mano. Quindi il supporto sociale di nuovo e il supporto di salute mentale in qualche modo devono procedere di pari passo. Rispetto a tutto questo ricordo che dal 2017 sono operative le linee guida per la cura e la riabilitazione delle vittime di violenza intenzionale, di tortura eccetera eccetera elaborate presso il Ministero della Salute da una commissione piuttosto ampia di cui facevano parte vari enti che spiegano ai vari servizi locali come dovrebbero implementare delle unità dell'equip che abbiano questa funzione di supporto in questo tipo di problematiche. A tutt'oggi e mi interesserebbe anche vedere poi di Raffaele la vostra mappatura a che punto siete rispetto a questo punto però a tutt'oggi quello che mi risulta, so che anche MSF ultimamente sta facendo una mappatura italiana vediamo anche i loro risultati appena arriveranno, ma da quel che mi risulta l'implementazione pratica poi è stata piuttosto scarsa. Diciamo che a parte i gruppi romani che erano preesistenti alle linee guida e quindi come dire di fatto continuiamo a lavorare ma già c'eravamo prima, mi sembra che successivamente alle linee guida centri nuovi che siano organizzati con questi modelli siano non così tanti in Italia mentre sarebbe importante. Infine l'ultimo punto che è quello che forse mi preme più di tutti anzi due, uno velocissimo e l'altro quello che mi preme più di tutti uno è la difficoltà diagnostica, cioè oggi i disturbi e le reazioni post-traumatiche le conosciamo bene sia nelle loro parti tipiche, quelle del PTSD dei vari manuali, l'ICDD, il DSM sia nelle parti meno tipiche, i PTSD complessi, le somatizzazioni, l'abuso di sostanze in persone traumatizzate le sfumature culturali e le reinterpretazioni in chiave culturale di sintomi che sono primariamente post-traumatici eccetera eccetera. Come dire, oggi c'è una quantità di nozioni da un punto di vista psicopatologico che è sufficiente per, non dico non sbagliare diagnosi, però in qualche modo avere una buona possibilità di inquadramento. Tutt'oggi però le screzi paranoici, le agitazioni psicomotorie improvvise, gli atti autolesivi e suicidari in persone traumatizzate spesso all'interno di un pronto soccorso possono venire equivocate come l'emergenza di una psicosi o di qualcos'altro e il rischio che questo apra la strada a una terapia prevalentemente di tipo antipsicotico, molto sedativa, spesso con dei long acting, secondo me è un rischio che va sempre segnalato perché è una cosa con cui ci troviamo comunemente a fare i conti e considerate che una persona che esce da un pronto soccorso con un long acting poi è difficile trovare chi si prenderà la briga di toglierglielo e provare a fare altre terapie. Normalmente non è escluso che non si possa usare un antipsicotico in una persona traumatizzata, ma non è quello il centro della terapia. Infine l'ultimo punto che definirei semplicemente non facciamo le riserve indiane e apriamo il sistema sanitario nazionale. Oggi c'è un centro di accoglienza che ha una funzione dell'accoglienza ma sempre più si stanno creando le precondizioni perché si creano dei centri di accoglienza specializzati nella cura di salute mentale. Già c'è qualcosa sul territorio nazionale e a me questa cosa preoccupa un po' nel senso che credo che le persone che hanno problematiche di salute mentale sia di tipo post-traumatico sia di altra natura, ovviamente il campo dell'immigrazione è molto vasta, dovrebbe avere il massimo di possibilità di accesso all'interno delle normali pratiche del sistema sanitario nazionale che è giusto che si attrezzi per far fronte all'immigrazione. Ricordo che ormai un migrante su dieci, una persona su dieci nella popolazione è di origine migrante, grosso modo, almeno nei grossi centri urbani, meno forse nelle periferie ma poi ci sono alcune periferie ad esempio quelle rurali, Latina, Rosarno eccetera dove la situazione anzi al contrario sono molti di più. Se una persona su dieci è di origine straniera probabilmente non si può immaginare che un paziente su dieci alla lunga non sia anche di origine straniera quindi imparare ad avere un'apertura trasculturale, imparare a lavorare con i mediatori, avere un servizio che possa chiamare i mediatori quando sono necessari, sapere come utilizzarli al meglio credo che queste siano competenze che debbano andare a tappeto su tutti i servizi del sistema sanitario nazionale e quindi a forse ori sui servizi del Dipartimento di Salute Mentale che ad oggi ha acquisito grandi capacità soprattutto negli SPDC perché di fatto ancora oggi sono quella la prima porta della crisi nel paziente migrante ma sempre di più invece dobbiamo spostare la nostra possibilità di attenzione sia sul territorio quindi sui centri di salute mentale sia sulle possibilità di presa in carico con possibilità anche di comunità che non siano soltanto per italiani o solo per stranieri come me temo che si possa creare nell'immediato futuro ma invece dove le persone possono stare insieme ed essere curate insieme. Quindi chiuderei proprio su questo cioè mi sembra che la cosa più importante a sottolineare mi piacerebbe che lo spirito basagliano che era quello di riportare la terapia nei territori non diventi come me ho visto ultimamente e quindi se non hai la residenza qui non ci puoi venire perché vivere sul territorio non coincide con avere la residenza e credo che i nostri territori dovrebbero fare molti sforzi in più per aprirsi in questo senso. Le persone che vivono nel territorio devono avere il diritto di accedervi. Grazie. Grazie. Grazie Aragona. Io ho solo un commento veramente è stato un inquadramento che definisce bene la cornice dentro cui avremo modo di fare i passi successivi di questo iter formativo eh se Raffaele è d'accordo quindi noi eh facciamo in modo che le domande vengano raccolte quindi chiediamo a tutti di proporle anche se banalmente sulla chat che andremo a verificare lasciando uno spazio finale per le risposte se siete tutti d'accordo ovviamente il professor Clerici per i motivi che sono stati annunciati prima non potrà farlo ma insomma se Massimiliano è d'accordo il dibattito lo facciamo. Sì. Raffaele scusami volevo solo specificare. Figurati assolutamente se non forse non abbiamo accennato precedentemente che Clerici sarà presente in video per un impegno che non ha improvviso che non ha potuto a cui non ha potuto sottrarsi. Volevo dire che appunto Massimiliano ha toccato mi pare dei punti che sono quelli che avevamo anche avuto modo di approfondire congiuntamente cioè la difficoltà di collegare i centri di accoglienza diceva prima magari l'operatore dei centri nota delle cose ma poi a chi le racconta a chi le dice è difficile il raccordo con i servizi diceva prima che ne è dell'implementazione di queste di linee di vita eh credo che ci sia molto poco ancora insomma c'è un affanno naturalmente eh per i servizi di salute mentale come sappiamo a a a a costruire relazioni positive con centri di accoglienza che magari non sono stabili nel tempo tendono a aprire e chiudere a spostarsi sui territori insomma ci sono difficoltà oggettive che vanno naturalmente segnalate aggiungerei anche che anche dal punto di vista eh appunto diagnostico sarà interessante vedere che cosa emerge dai dati che noi della ricerca che abbiamo fatto ma un dato significativo eh che dovremo mettere poi a confronto con altre ricerche o le esperienze cliniche e cliniche di altri colleghi è che eh diciamo il disturbo eh post traumatico da stress non è il eh diciamo il quadro psicopatologico più frequente nell'ingaggi che abbiamo fatto eh e comunque va detto che un trenta per cento della popolazione su trecento tre migranti che sono stati sottoposti una serie di di valutazioni psicologiche e psichiatriche mostra un qualche tipo di disagio eh di quadro psicopatologico che è una percentuale evidentemente significativa insomma considerando che la maggior parte delle persone sono soggetti giovani eh ma che appunto come avrebbe raccontato Massimiliano eh eh hanno cumulato una serie di di esperienze traumatiche eh comprese quelle legate alla eh alle condizioni di accoglienza del nostro paese e le attese di anni di cui ci ricordava Massimo. Ma lascio a questo punto chiaramente la parola a Maurizio Bacigalupi, psichiatra, volontario presso Samifo che ha una lunghissima esperienza di come ambulatorio per le migrazioni, ovviamente non soltanto per quanto riguarda la salute mentale ma un approccio di presa in carico della salute nel suo complesso e che ha da anni ormai costituisce un punto di riferimento sul territorio laziale per per i migranti e per le strutture di accoglienza un po' da tutta la regione anche a un'ampia attività di tipo formativo eh che è sostenuta anche da progetti fami il titolo della della relazione di Maurizio Bacigalupi è accogliere i bisogni di salute mentale dei migranti borsati per l'esperienza per l'appunto del centro sanico. Maurizio. Allora grazie Raffaele innanzitutto questi sono come dire ringraziamenti dovuti ma insomma in questo caso anche con piacere mi fa l'idea di essere stato in qualche modo chiamato anche se mi fate sempre questo scherzo di farmi parlare dopo Massimiliano Aragona. Parlare che ti verrebbe voglia di discutere con lui proprio perché è così ricco e stimolante e dall'altra dice ma è come io ho preparato tutta la relazione me la fate saltare tutta e allora vorrei come dire restare in questa idea di fare molti richiami alle cose che ha detto perché sono fondamentali le alcune delle affermazioni che lui ha fatto e vedere come queste abbiamo cercato eh con fatica a volte con errori sicuramente anche spesso di eh trascriverli e scriverli in un sistema di accoglienza che tenesse conto delle osservazioni che in qualche modo eh Massimiliano faceva prima vorrei partire con come dire eh ragionando su tre studi che sono stati pubblicati in diversi anni come vedete uno è uno studio che eh ha comparso su epidemiologia e prevenzione ed è uno studio fatto dall'istituto ehm di non dell'istituto superiore di sanità ma dall'istat che ha valutato la salute percepita dagli immigrati quindi immigrati in questo caso non migranti forzati eh sia nel duemila e cinque studio che è stato ripetuto nel duemila e tredici che cosa hanno visto loro? Che nel duemila e cinque la condizione che di salute che le persone riferivano era una condizione che era migliore di quella che era riferita da le popolazioni neotocne dai nostri concittadini, dagli italiani. Questa differenza e questa distanza fra le due condizioni di salute si riduce nel duemila e trecce. Questo che cosa ci dice? Ci dice quelle cose che stava in qualche modo eh accennando Massimiliano prima. Cioè noi abbiamo vissuto un periodo in cui la migrazione era fatta da persone che venivano con delle precise indicazioni e con un preciso desiderio di sviluppare delle loro opportunità di vita e quindi da questo punto di vista erano come dire i migliori virgulti dei paesi che che arrivavano e successivamente invece la migrazione ha coinvolto grandi masse che a volte desideravano spostarsi a volte più spesso erano costrette a muoversi laddove c'erano grandi situazioni di guerra, situazioni di devastazione anche per caratteristiche ambientali o situazioni di tragedie politiche come quelle che abbiamo visto recentissimamente in Afghanistan. Quindi questa era una prima osservazione. Una seconda osservazione invece ce la dà questo studio che è uno studio fatto invece in Svezia, è uno studio pubblicato sul British Medical Journal ed è uno studio in cui a partire da una valutazione dei sistemi di registrazione nazionale svedesi quello che emerge è un'osservazione che è esattamente l'opposto di quella che vi dicevo prima nel senso che la diagnosi delle popolazioni migranti presentano una caratteristica di disturbo psichiatrico in particolare disturbo schizofrenico ed altre psicosi che è molto più alta di quella che è presente nella popolazione nativa svedese. Da questo punto di vista non si riesce allora bene a capire qual è il senso di questo inquadramento diagnostico e qual è il significato che in qualche modo viene rappresentato da questi strumenti. Vedete che le variabili vanno diciamo dal 40 per cento al 126 quindi parliamo di differenze che non sono di piccolo conto no? E con una grossa prevalenza soprattutto nei migranti forzati quindi nei rifugiati mentre i migranti hanno comunque una valutazione eh superiore però da questo punto di vista meno di quella che è portata dai eh migranti forzati. Il terzo studio sul quale vorrei ragionare con voi è questo invece che è un report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità della Regione Europea dove si riconferma quella che era l'osservazione iniziale che non esisterebbe una variabilità particolare nelle popolazioni migranti e nei rifugiati rispetto alle popolazioni native ad eccezione di una sintomo che è quello di una patologia che è quella del disturbo da stress post-traumatico che è rappresentato addirittura con valori che sono da due a tre volte superiore a quelle della popolazione ospitante e in alcuni studi si arrivano a valori che sono addirittura cinque volte quelli della popolazione ospitante. Quindi in questa situazione che è una situazione in cui ci sono eh come dire condizioni e affermazioni che sembrano essere molto contraddittorie tra di loro eh nasce nel duemila e sei il centro per i migranti forzati definito chiamato lo SAMIFO che è un acronimo che appunto di dice salute migranti forzati e come nasce? Nasce su un presupposto che è eh diciamo il ritrovarsi di due punti di osservazione diversi. Da una parte c'erano una serie di colleghi che all'interno dei servizi pubblici nei servizi di diagnosi e cura o nei servizi territoriali facevano primi interventi con popolazioni migranti dall'altra esistevano delle strutture e la struttura a cui facciamo riferimento in questo caso è il centro stalli che è la sede italiana del servizio eh internazionale dei gesuiti per i rifugiati che vivevano due eh considerazioni diverse. Da una parte le strutture del terzo settore che erano strutture sociali eh ricevevano domande che erano delle domande di tipo sanitario alla quale solo parzialmente erano in grado di rispondere attraverso eh loro volontari che lavoravano dentro i servizi. Dall'altra erano invece i colleghi dei servizi pubblici sanitari che venivano eh coinvolti da una serie di domande attivati da una serie di domande che erano delle domande che conevano dei problemi che avevano attinenza con il sostegno e con la eh richiesta di un ehm aiuto sociale. La casa, il lavoro, la regolarizzazione della loro opposizione eccetera. Da queste due diciamo osservazioni nasce questo incontro, incontro che viene poi strutturato immediatamente in una realtà che è in una realtà eh di un servizio pubblico e quindi è all'interno della ASL all'inizio era allora era la la Roma A, la Roma 1 che è la ASL del centro storico di Roma, questo anche per dare una collocazione geografica a chi non è Roma. Il centro è il luogo in cui per dire esiste la stazione centrale, la stazione centrale è uno dei punti eh focali attorno al quale come dire si ritrovano una grossa quantità di migranti e all'interno del centro storico sono presenti una serie importante come anche di strutture di accoglienza. Quindi questa realtà viene formalizzata in un protocollo di intensa e vengono definiti degli obiettivi generali che sono quelle della presa in carico dei richiedenti titolari di protezione internazionale e allora si parlava con permessi di soggiorno complementari, i permessi di soggiorno complementari sono quelli che erano presenti per motivi sanitari, i permessi di soggiorno complementari sono i permessi di soggiorno per motivi umanitari. Proprio ad evitare quello che diceva eh Massimiliano, cioè della costituzione di un ghetto di riferimento eh proprio della situazione del del degli stranieri la scelta è stata quella di immaginare che il passaggio all'interno di questo servizio fosse un passaggio cioè che avesse proprio un termine temporalmente predefinito. È chiaro che quando definiamo ventiquattro mesi non è che a ventiquattro mesi e eh un giorno come dire le persone vengono espulse. Questo può avvenire molto prima o se ci sono delle condizioni in particolare può ovviamente questo eh protrarsi ma l'idea è proprio che quanto prima possibile quanto prima esistono le condizioni linguistiche di capacità eh di integrazione che permettono l'utilizzazione completa delle strutture dei servizi della realtà pubblica quindi dei servizi sanitari quanto prima questo è possibile e tanto prima sarà fatto questo passaggio. L'idea è che questo luogo doveva essere un luogo eh di cui venivano degli processi di integrazione. L'integrazione è l'obiettivo di qualunque eh processo e attenzione a persone migranti. ebbene l'altrettanto noi abbiamo cercato di essere attenti a che noi stessi fossimo una realtà integrata e integrante e non una realtà disintegrata. Quindi un'integrazione tra pubblico e privato sociale lo dicevamo prima quindi tra il centro stabile e la ASLA. Un'integrazione tra la medicina generale e la specialistica quindi all'interno del centro SAMIFO esistono e sono presenti dei medici di medicina generale che sono i medici ai quali si possono iscrivere i richiedenti asilo che come sapete sono eh ufficialmente e regolarmente presenti nel nostro territorio e come tale hanno diritto ad accedere a la iscrizione al servizio sanitario nazionale e a tutte le cure a cui hanno diritto i cittadini eh degli italiani. E infine ultimo l'integrazione tra sociale e sanitario proprio per la eh complessità dell'intreccio che esiste fra queste due dimensioni, fra la dimensione della salute fisica e la dimensione del benessere eh più generale di una persona che è proprio delle popolazioni migranti. Per garantire che questi livelli di integrazione a loro volta fossero attenti al processo di integrazione delle persone che eh arrivavano alla nostra attenzione, alle nostre cure, è stato attivato un forte presente servizio di medicina, di mediazione linguistico-culturale e con la caratteristica di stabilità. L'idea è che i mediatori devono poter garantire la continuità e la presenza che in qualche modo sia anche un punto di riferimento per i richiedenti esilo. Qui vedete un'immagine che cerca di rappresentare eh queste dimensioni dove la richiesta e i titolari di protezione incontrano il servizio che ha questa capacità eh come dire di mh attraverso il lavoro e la presenza dei mediatori linguistico-culturale di lettura, prima lettura e comprensione e quindi che da questo punto c'è un accompagnamento, un orientamento che riguarda come dire le attività che sono proprio presenti dentro il sanico, che sono la medicina di base, sono eh l'ortopedia, il servizio di assistenza sociale, la riabilitazione, la psichiatria, la psicologia e una forte attività consultoriale garantita da ginecologi, ostetrici e infermieri con una attenzione anche all'accompagnamento presso altri servizi laddove ci fossero le condizioni che impediscono un concreto e un discreto e un buon accesso a queste strutture. Quindi da questo punto di vista una realtà in cui eh sanitari eh operatori sociali assistenti sociali tecnici della riabilitazione e eh figure di altre strutture di altre realtà come dire lavorano proprio a stretto contatto di mondo. Un'attenzione particolare è stata riservata al ruolo della medicina legale eh lo accennava ehm brevemente prima anche Massimiliano ruolo dei dermatologi che eh devono essere capaci di riconoscere una serie di segni dei danni, dei traumi e delle torture che sono state eseguite e quello che noi abbiamo pensato è che nel momento in cui noi vediamo delle persone che sono dei richiedenti asilo questo riconoscimento debba essere anche formalizzato in una relazione medico legale che può aiutare le persone come dire a raccontare la loro storia nel momento in cui dovranno incontrare una commissione che dovrà valutare il loro diritto a ottenere una protezione internazionale. Nell'attenzione proprio eh di quelle che sono come dire le tappe, i processi di ritraumatizzazione che si costruiscono quando noi introduciamo questi elementi. Doversi eh recare di fronte a una commissione che è vissuta come un come dire un ente inquisitore e dover raccontare aspetti molto intimi a volte della propria storia è una dimensione che può essere facilmente eh motivo di produzione di aspetti anche sintomatici acuti nel momento della stessa eh audizione in commissione. Più di una volta eh a noi eh che lavoriamo fisicamente vicini al ruolo in cui eh si svolgono le commissioni è stato chiesto di intervenire perché c'erano delle situazioni che si erano rappresentate da questo punto di vista in maniera molto prima. Eh il SAMIFO proprio per questa sua caratteristica è stato poi eh individuato come una struttura valenza regionale e quindi seppure è eh situato nel territorio della primo distretto sanitario di Roma ha eh questa possibilità di accogliere e di valutare altre eh presenze, altre situazioni. quindi da questo punto di vista siamo fuori dal rischio di una eh come dire esclusione territoriale ma chiunque è presente nel nostro territorio e che sia però un richiedente, questo è il richiedente asilo e e abbia la caratteristica di essere regolarmente presente diciamo nel territorio eh nazionale può accedere a questo servizio. È un servizio a cui si accede eh senza eh filtri ulteriori, cioè può essere un accesso diretto. Chiaramente come tutti i servizi abbiamo avuto grandi problemi durante la pandemia come dire a regolare e tuttora abbiamo difficoltà a regolare gli accessi e gli ingressi dentro la struttura però siamo sempre riusciti a restare a restare sempre aperti e anche a eh evitare come dire di perdere questa eh dimensione della dell'accesso diretto. L'altra scelta fondamentale che è stata fatta è stata nonostante come dire l'importanza di alcuni eh segni psichiatrici eh e psicologici che portano i richiedenti e i rifugiati quello di collocare fisicamente il servizio in un distretto sanitario cioè nel luogo della cura di tutti i cittadini per qualunque tipo di problematica eh socio-sanitaria. quindi da questo punto di vista è stata questa una delle eh scelte che in qualche modo abbiamo fatto. Eh l'altra attenzione particolare è stata quella che noi abbiamo rivolto alla presenza dei mediatori perché crediamo che questa che è una realtà eh che permette di eh affrontare in termini di di comprensione e non solo di è come dire lettura eh in termini di una traduzione di lingua ma di comprensione dei contenuti della comunicazione del paziente che viene da noi è l'elemento cruciale e quindi spesso come dire l'accompagnamento è un accompagnamento che riguarda non tanto il sanitario ma quanto il mediatore che accompagna poi la persona tra i diversi specialisti del sanitario ma molto più spesso anche al di fuori del sanitario laddove ci sono situazioni che richiedono come dire una buona discreta o alta competenza linguistica per il tipo di prestazione o di visita che il paziente deve fare. Eh questo perché lo vedremo poi più avanti perché per quanto ci riguarda eh uno degli aspetti che ci colpiva era le mh difficoltà diagnostiche mettiamolo in questo modo eh che vedevamo eh nel nelle referte nelle situazioni che ci arrivano. Per esempio anche qui Massimiliano ha citato questa situazione mi dispiace di doverlo chiamare sempre in causa ma l'alto numero di eh diagnosi di schizofrenia NAS con cui le persone arrivavano al nostro servizio laddove eh per esempio l'altro numero di diagnosi di disturbo post-traumatico da stress di fronte a situazioni che eh erano invece di tipo diverso e quindi lì c'è un problema che è un problema che ha a che fare con quelle che noi chiamiamo le misdiagnosi cioè proprio l'incapacità di riconoscere ma questo non solo non per ignoranza soltanto del del degli operatori sanitari ma proprio per questa eh difficoltà alla comprensione senza l'aiuto e la collaborazione di un mediatore a prendere i segni i segnali che le persone ci dicono. Per esempio abbiamo visto e vediamo una quantità di richieste di elettroencefologrammi e di eh addirittura risonanze magnetiche cerebrali per le cefalee quando un momento fa abbiamo sentito come questo può essere un sintomo invece di un'altra cosa di un disturbo post-traumatico da stress quanto disturbi dissociativi che possono essere particolarmente intensi pensiamo la diagnosi di disturbo associativo complesso vengono interpretati come eh disturbi invece di tipo psicotico là dove sono anche presenti sicuramente dei segni dei sintomi di tipo psicotico ma c'è la difficoltà a comprendere come questi segni sono eh legati e collocati nell'ambito di un contesto che è diverso da quello del disturbo psicotico. Non ultimo il problema della rappresentazione del dolore. Il dolore viene spesso rappresentato con delle modalità che sono delle modalità anche molto concrete. Io non ho il mal di pancia ma ho un verme dentro la pancia che cammina e si esposta da una parte e dall'altra e vedo che mi fa un bozzo da una parte della pancia e io lo schiaccio e compare il bozzo dall'altra parte. Una situazione di questo tipo può essere letta come una dimensione eh delirante a momenti no? Per paradosso. Allora credo che ci sia necessità come dire di un'attenzione e una capacità di comprendere queste se volete due dati ma proprio molto significativi. Grosso modo noi abbiamo ogni anno un un migliaio di persone nuove che 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 arrivano. Eh questo ha significato volumi di attività e di visite eh l'aspetto importante è che l'ultima riga di questa slide che le vittime di trattamenti disumani e degradanti sono circa trecento all'anno cioè vediamo trecento persone che non sono solo vittime di tortura nel senso di eh persone che per la loro fede politica sono state incarcerate e torturati ma persone che come quelle a cui faceva riferimento Massimiliano che in Libia persone che nel traffico che c'è e nel trasporto che c'è lungo i cammini e i percorsi per arrivare in Europa sono in qualche modo torturate e violentate. Quindi da questo punto di vista è un dato molto preoccupante eh qui vedete eh un aspetto particolare che è stato legato all'epidemia per cui nel duemila l'epidemia da covid nel duemila e venti abbiamo un numero inferiore di visite rispetto all'anno precedente e questo proprio perché è legato. Le donne sono meno rappresentate eh nella popolazione che eh accede al samifo eh anche se stiamo progressivamente vedendo un loro aumento i primi anni di attività al samifo erano veramente una minoranza eh successivamente stiamo raggiungendo valori che sono superiori a quelli del trenta per cento. Eh questo è vero in maniera diversa per le diverse provenienze e quindi eh per esempio nella popolazione afghana fino a poco tempo fa le donne erano assolutamente non presenti e oggi invece cominciamo a vedere anche. L'età della popolazione che afferisce è ovviamente una età qui vedete rappresentati i due i due anni eh un numero assoluto è sostanzialmente una popolazione che sta fra i venti e i i quarant'anni e l'altro evento che stiamo osservando è come si sta sempre più sta sempre più aumentando la la l'età della popolazione quindi cominciamo a vedere eh persone che hanno una certa età e cominciamo a dover avere a che fare con disturbi che sono dei disturbi cognitivi dell dell'anziano che si rappresentano magari più precocemente di quanto eh vediamo nelle nostre popolazioni ma questa è la stesso tipo di situazione che noi abbiamo. Questo è l'elenco dei vari progetti li citava prima Raffaele, i fari, tutti infami, cedera che in qualche modo finanzia ne hanno permesso il finanziamento in questi anni. Eh questo sono delle foto che riguardano come dire degli aspetti realizzati in termini di riabilitazione perché anche qui la sforzo che è stato fatto è stato quello di tenere insieme la dimensione eh terapeutica clinica in senso stretto con l'attività clinico riabilitativa e quindi anche all'interno di queste strutture. Queste sono le scuole di cucina, delle attività agricole, questo è un corso di sartoria e questi sono dei momenti invece di gruppo e di lavoro di gruppo. le preoccupazioni che noi abbiamo e sulle quali cerchiamo di muovere anche la nostra formazione nel momento in cui incontriamo colleghi ma anche nel momento in cui incontriamo operatori dei centri di urni è questa che il nostro fare ha queste possibili conseguenze. La reattivazione di traumi, l'attivazione di sintomologie post-traumatiche per la prima volta che fino durante il viaggio non sono state espresse. La presenza del trauma vicario quindi sia in figure che accompagnano la persona che in qualche modo rappresenta sia nel personale sanitario che è esposto come dire a queste storie, a queste vicende traumatiche rischia a sua volta avere di esprimere dei sintomi se non un vero e proprio disturbo post-traumatico, dei sintomi di tipo post-traumatico. Quella che citava prima Siliano della intrusione del pensiero negli operatori lo possiamo immaginare come quello che è il portarsi a casa in testa il paziente che ho appena visto e quindi non riuscire come dire a staccare dal lavoro che ho fatto e conservare questo comune elemento. Queste sono delle modalità in parte prese anche dalle linee guida proprio sulla chiarezza del contesto in cui è opportuno che ci si muova e la tensione deve essere anche sul nostro versante e quindi sia l'idea che non è possibile lavorare in questi contesti da solo e il lavoro è sempre comunque un lavoro di equip anche se è possibile che ci sia un rapporto uno a uno e che ci sia un incontro individuale con una persona, ma questo è inserito in un lavoro più generale in cui ci sono professionalità che sono diverse dalla mia che è in gioco in quel momento nel rapporto umano col paziente. E poi l'importante è che stabilire la necessità di formazione sia degli operatori a muoversi e a lavorare con i mediatori sia avere dei mediatori che siano capaci di lavorare in condizioni che sono particolari come quelle delle difficoltà della comprensione per difficoltà della lingua ma soprattutto per difficoltà della comprensione per capire il senso di quella lingua all'interno della cultura di cui quella persona è portatore. Ed è per questo che è importante che poi ci siano tanti mediatori e che questi mediatori abbiano provenienze diverse ed è per questo che sarebbe importante il più possibile che con le lingue originari si possa parlare almeno in un certo periodo attraverso la collaborazione di persone che queste lingue conoscono. Io credo di aver rispettato anch'io i tempi. Non ho altre cose se non eventuali domande. L'unica cosa che vi vorrei dire è che ho un problema nel senso di lavoro per cui io alle 5 vi devo lasciare. Quindi se ci sono... Quindi la mia proposta è se potevamo intanto raccogliere, ci sono già raccolto un paio di domande alle quali possiamo rispondere io e Massimiliano. Dobbiamo farci dire appunto dalla regia se... No, sulla scelta non ci sono domande. Quindi non so se qualcuno vuole aprire adesso la riflessione o ha delle domande da porre. Comunque abbiamo un quarto d'ora. Maurizio ha ancora un quarto d'ora perché noi alle 16.45 interrompiamo e quindi c'è comunque un quarto d'ora. L'intervento di clerici dura 40 minuti però. Perciò allora... Visto che clerici non può rispondere. Eh appunto. Vediamo se quindi... No, vi ripeto, fino alle 5 non ho problemi. Io manderei direttamente ora a questo punto l'intervento di clerici, ma Raffaele... Non avendo domande per ora in... Farei così, manderei l'intervento di clerici presentandolo, cioè, ordinario di psichiatria e da tanto tempo esperto, con molti lavori peraltro, sulle problematiche relativa alle comorbidità e alla doppia diagnosi del... Negli adolescenti e negli adulti relativamente alle problematiche che oggi dobbiamo necessariamente dire di polidipendenza. E lui appunto presenta questo intervento pre-registrato su migranti forzati e doppia diagnosi. Io vi saluto. Grazie Maurizio, grazie infinitamente per il tuo intervento. No, resta a vedere quello di clerici, ma poi vi saluto. Grazie. Buongiorno a tutti. È con grande piacere che presento la mia relazione. Purtroppo è una relazione registrata, perché impegni aziendali concomitanti mi hanno impedito di essere con voi. Ma io voglio ringraziare in primo luogo la Società Italiana di Psichiatria e l'Istituto Psicoanalitico per le ricerche sociali, che hanno organizzato questa serie di eventi collegati, che a mio parere sono molto importanti in un momento come questo, in cui i nostri servizi si trovano di fronte all'esigenza di dover fare i conti con nuovi bisogni e anche con richieste assistenziali, per le quali molto spesso i colleghi e noi stessi non siamo assolutamente preparati. L'intervento che mi è stato proposto oggi riguarda la questione della salute mentale, ovviamente, e riguarda in particolare le problematiche legate all'uso di sostanze. Questo è l'indice o il segnalibro o meglio sul quale cercherò di costruire il mio intervento. È un contenuto che parte da alcuni cenni di carattere generale introduttivo sulla migrazione. Alcune considerazioni le faremo sulle problematiche droghe ed alcol correlate con le loro correlazioni appunto con la patologia psichiatrica o meglio i disturbi mentali rilevabili nei migranti. Alcune considerazioni saranno un po' su quello che sono i punti caldi dal punto di vista assistenziale, sempre in relazione alla nostra visione complessiva, che deve essere una visione basata sulla letteratura e evidence based evidentemente, perché la letteratura, i dati e le ricerche internazionali che ci offrono i percorsi per muoverci e anche per replicare quanto può essere utile per il nostro ambito. E appunto in termini di progetti locali chiuderò con alcuni dati e alcune informazioni sul progetto FAMI che è stato realizzato nel corso degli ultimi due anni presso la nostra azienda, l'azienda sociosanitaria di Monza, che io dirigo come direttore del dipartimento e polo universitario anche della Bicocca. Allora, da dove partiamo? Un dato introduttivo non può che essere la spinta forte, la spinta politica, la spinta relativa alle policy sanitarie che diventano anche una sfida nel senso stretto della parola in relazione alle problematiche di deportazione, di migrazione forzata, di controllo delle frontiere, di tentativi di integrazione dei soggetti migranti che richiedono inevitabilmente anche tutta una serie di attenzioni particolari per quanto riguarda la loro salute. È chiaro che le condizioni di migrazione sono molto diverse in relazione al fatto che siano sostenute da conflitti, da guerre, da situazioni di persecuzione legata a ideologie, a religioni, a conflitti etnici all'interno dei paesi di provenienza o anche soltanto possono essere una forte spinta alla venuta in paesi più ricchi e una risposta anche alla degradazione ambientale, al cambiamento ambientale in corso in buona parte dei paesi dai quali questi flussi provengono. È chiaro che tutto questo ha una ricaduta immediata per quanto riguarda i paesi ad alto sviluppo, insomma i paesi avanzati o come tali li definiamo rispetto alla questione della salute mentale e rispetto alla questione dell'adattamento psicologico e culturale all'ingresso nei nostri paesi. La letteratura che cercheremo di vedere in modo molto rapido rispetto a queste tematiche sottolinea ovviamente i disturbi più noti, il disturbo post-traumatico da stress, i disturbi psicotici, l'ansia e dell'umore, il rischio suicidario, l'uso delle sostanze e li collega alle difficoltà nell'accesso ai servizi psichiatrici e alle problematiche che riguardano i migranti quando non rientrano nei loro territori di provenienza e incontrano il contesto di appartenenza e buona parte dei problemi sono legati anche di nuovo al contatto con famiglie che nella grande maggioranza dei casi non riescono a raggiungere i migranti, non riescono inevitabilmente a essere assorbite poi nel paese dove il migrante è collocato. Tutto questo deriva e lo possiamo ritrovare all'interno dei molteplici report che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo a disposizione, questo è uno dei tanti che vedete, il report sulla salute dei rifugiati e dei migranti nelle regioni dell'Europa e inevitabilmente attraverso questi report noi abbiamo una fotografia molto realistica di quello che sono i numeri, si parla in questo momento di circa un miliardo di soggetti sottoposti a migrazione dei quali un quarto circa a migrazioni internazionali e tre quarti a migrazioni interne, pensiamo soltanto a quanto sia difficile la ricollocazione anche all'interno di paesi in via di sviluppo di soggetti che spostano pesantemente i bilanci ai vari centri della vita collettiva all'interno di molti di questi paesi, mi riferisco soprattutto al continente africano, che circa 65 milioni, ci dice sempre l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono i soggetti deportati forzosamente dalle loro case e che comunque l'85%, oltre l'85% dei soggetti deportati forzatamente dai loro paesi arriva da nazioni in via di sviluppo e si dirige verso popolazioni sviluppate. La migrazione quindi è un fenomeno molto complesso, è un fenomeno che richiede studi, che richiede ricerche e che poi implica soprattutto nella fase dell'adattamento al nuovo ambiente, tutta una serie di problematiche che ricadono ovviamente sui programmatori delle policy economiche e delle policy sanitarie. Il tutto questo all'interno di una dimensione di migrazione che va caratterizzata per motivi assolutamente diversi, cioè i cosiddetti migranti, soggetti che si muovono verso nuove aree o verso nuovi paesi alla ricerca di una collocazione lavorativa o di migliori condizioni di vita, questo inevitabilmente li rende i cosiddetti migranti economici, gli asylum seekers che sono soggetti che invece vengono da noi chiedendo protezione rispetto a una situazione che non è più in grado di tenerli e di accoglierli nel paese di provenienza, rispetto ai rifugiati che hanno una chiara motivazione legata alla spinta derivante dalla persecuzione, da motivazioni razziali, religiosi di appartenenza a gruppi etnico, o a gruppi sociali o a gruppi politici che sono perseguitati all'interno dei loro paesi. Una complessità di questo tipo non può che indurre, che indicare inevitabilmente all'interno dei processi di adattamento psicologico rispetto a queste fenomeniche delle condizioni molto diverse che sono condizioni che riguardano la premigrazione, quindi tutto quello che avviene nella fase precedente, il fenomeno migratorio, i processi di migrazione, quindi durante lo spostamento di questi soggetti e la post migrazione, cioè quello che avviene nelle fasi successive che sono le fasi legate alla fase di ricollocamento all'interno o di sedimentazione, potremmo chiamarla all'interno dei paesi dove questi soggetti sono collocati. E' chiaro che questo discorso non riguarda soltanto i migranti cosiddetti primari, ma poi riguarda la seconda e la terza generazione che devono essere valutate in relazione al fatto che possono essere considerati in alcuni casi anche queste generazioni di migranti e in altri casi invece che abbiano assorbito all'interno del contesto socioculturale di appartenenza nuove identità che però sono distoniche, sono distopiche rispetto alla condizione di provenienza dei loro genitori e conseguentemente sono fonti di stress. Moltissimi sono i fattori che spingono o che rallentano lo spostamento delle popolazioni migranti e inevitabilmente la migrazione nel momento in cui si interfaccia con la salute mentale è fortemente sensibile, è fortemente condizionata da tutti questi fattori. E' difficile elencarli tutti, nella diapositiva precedente avete visto un elenco importante sempre a partire dai documenti che le organizzazioni internazionali ci mettono a disposizione non solo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ma anche l'Organizzazione Mondiale di Psichiatria, l'Associazione Mondiale di Psichiatria. Però potremo collegare e sintetizzare le importanti problematiche che queste popolazioni affrontano su tre aree tematiche sostanzialmente. Quella della violenza sessuale contro le donne nelle situazioni di conflitto è un'area estremamente importante, è un'area estremamente allargata. Ci sono moltissimi documenti che richiamano uno tra i tanti quello del governo inglese che spinge verso una risoluzione per la riduzione o addirittura l'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti sottoscritta da 148 nazioni partecipanti. Un secondo aspetto importante sono le relazioni tra migrazione e estremismo o terrorismo violento. Ci sono sicuramente all'interno degli spostamenti migratori, come è stato più volte discusso, questi elementi, elementi di radicalizzazione dei rifugiati, elementi di aggregazione all'interno dei campi di transito o dei centri dove questi soggetti vengono collocati e quindi rischi di infiltrazioni terroristiche attraverso le popolazioni migranti che preoccupano non poco la popolazione dove queste popolazioni poi arrivano e soprattutto che inducono una crescita dei fenomeni di stigmatizzazione e di rifiuto collettivo verso le popolazioni. Un terzo elemento fondamentale della letteratura, sottolineato anche da molti dei documenti a cui ho fatto riferimento, è quello del suicidio. Qui c'è una sintesi molto limitata ma a mio parere utile sull'area del suicidio. Ci sono molti report con dati epidemiologici importanti su popolazioni molto distante tra di loro, in luoghi, in nazioni molto lontane tra di loro che sottolineano tutte comunque come il rischio suicidario sia un rischio estremamente importante all'interno delle popolazioni migranti e che veda i paesi accoglienti ancora sostanzialmente impreparati in relazione alle politiche di tutela rispetto a questo fenomeno. Ci avviciniamo ora, quindi arriviamo ora anche al fenomeno della cosiddetta doppia diagnosi o della cosiddetta associazione tra uso di sostanze e problematiche che ne derivano. Questi tra i vari sono forse alcuni dei lavori più importanti. Vedete che i primi lavori, questo di Westermeyer, su una monografia dell'Agenzia federale americana per l'uso delle sostanze è del 1993 ed è il primo lavoro forse in assoluto e addirittura è una monografia più che un lavoro nel quale si sottolinea e si enfatizza la problematica dell'uso delle sostanze nelle popolazioni giovanili rifugiate con ovviamente un rilancio di alcuni warning e di alcuni livelli di attenzione importanti che poi sono stati raccolti non solo dalla ricerca, questo lavoro di Luhan Haddai è un lavoro anche questo abbastanza datato del 94 ma è una grossa revisione della letteratura al momento disponibile che cerca di fare chiarezza su quello che sono un po' le caratteristiche delle popolazioni fino ad arrivare poi a una sensibilizzazione importante che è quella che deriva da questo articolo di Benedetto Sareceno che è stato direttore insomma del programma salute mentale e dipendenze della World Health Organization e che all'interno di questo documento ha voluto inserire un capitolo ad hoc che vedete essere proprio dedicato alle dipendenze da sostanze. Questo documento è del 2004 ma già fa capire come i fenomeni migratori in corso richiamavano l'attenzione rispetto non solo alla raccolta di informazioni, l'OMS ha proposto questo Global Alcohol Database ma anche in relazione a tutta una serie di progetti che erano condotti nei paesi in via di sviluppo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sosteneva per una forte implementazione. Ma allora se vogliamo vedere quello che offre diciamo la letteratura più recente sul tema in oggetto, beh dobbiamo avvicinarci attraverso le revisioni sistematiche e le meta-analisi ai dati a disposizione e questa pur essendo molto recente mette subito in evidenza due aspetti. Il primo è che le problematiche legate alle sostanze sono considerate o sono comunque risultate ancora marginali nella letteratura recente rispetto ai punti cardina, ai punti critici della letteratura scientifica che sottolineano soprattutto i tre poli importanti della salute mentale dei rifugiati che sono il disturbo post-traumatico da stress in questa revisione collocato intorno al 31%, la depressione con un dato sostanzialmente omogenee anche questo intorno al 31% e i disturbi d'ansia con un dato un po' più basso che è intorno all'11%. I dati sono sostanzialmente comparabili con quelli della popolazione generale non migrante per quanto riguarda i disturbi d'ansia anche per quanto riguarda il dato di prevalenza della schizofrenia che è intorno all'1,5%, mentre risulta assolutamente evidente come il dato sul disturbo post-traumatico da stress e sui disturbi dello spettro dell'umore siano decisamente molto più alti. Il tutto nonostante venga sempre sottolineata in questi lavori di revisione a una sostanziale eterogeneità nelle stime nei dati di prevalenza raccolti, questo in relazione alla diversità delle popolazioni fatte oggetto della ricerca e soprattutto anche della mancata o della disponibilità di strumenti di rilevazione strutturati che inevitabilmente rendono i dati più puliti. Un dato però assolutamente condiviso è quello che riguarda il mantenimento, la permanenza di questi disturbi che riguardano la salute mentale nel corso del tempo e questo è un fattore che si collega sicuramente all'esposizione ad eventi traumatici e drammatici ma anche sicuramente viene mantenuto dalle difficoltà e dai fattori ambientali e socio-economici della fase post-migratoria, quindi sicuramente la necessità di un'osservazione e di un monitoraggio longitudinale di questi problemi è fondamentale. Nel momento in cui andiamo nello specifico della questione sostanze ci sono una serie di lavori a mio parere interessanti del gruppo di Daniel Orignac che sono stati pubblicati in sequenza, tendenzialmente fanno tutti riferimenti alla dimensione contenzuale, geografica dell'Australia ma sono particolarmente interessanti perché fotografano situazioni diverse. Questi due lavori per esempio si occupano di vedere le attitudini delle popolazioni migranti rispetto all'uso delle droghe per via iniettiva dando sostanzialmente un'indicazione che conferma che il fenomeno è abbastanza ridotto anche perché i migranti considerano innaturale rischioso e spesso addirittura immorale per motivi religiosi o per motivi culturali familiari l'assunzione delle sostanze per via endovenosa essendo fortemente stigmatizzata questo a livello culturale soprattutto nei contesti familiari e nei contesti dei gruppi di pari a cui questi soggetti appartengono. Un altro dato sempre dello stesso gruppo di ricerca riguarda il consumo di alcol, il consumo di quote rilevanti di alcol da parte dei rifugiati. Ci sono sostanzialmente tre motivazioni che sono state identificate per l'uso in grosse quantità di alcol. uno è il bere per trovare un sistema di adattamento al trauma, un altro per rispondere a delle condizioni di frustrazione e di noia e una terza motivazione è quella di fare un'esperienza sociale. è evidente che qualunque sia il tipo di motivazione che spinge all'assunzione di alcol, le conseguenze sociali di questa assunzione sono particolarmente importanti, sono particolarmente rilevanti perché inevitabilmente portano violenza, portano frattura nelle relazioni familiari ed extrafamiliari, portano sradicamento sociale e impatto con la giustizia oltre che evidentemente tutti gli effetti collaterali di tipo fisico e organico. E le conclusioni che questi autori portano in relazione al rapporto con l'alcol è proprio la necessità di un addestramento, consigliando addirittura delle strategie basate sul coinvolgimento dei pari, dei pari che non fanno uso di alcol per migliorare le informazioni e offrire una sorta di educazione sanitaria a questi soggetti. L'ultima importante revisione sistematica sul fenomeno dell'uso di sostanze nei migranti forzati è questa pubblicata su PLOS ONE nel 2016, quindi 5 anni fa, però è la più ricca di informazioni ancora e valuta una quantità importante di dati, visto che la maggioranza dei dati e delle ricerche a disposizione non si occupa in genere di sostanze, ma si occupa delle patologie che abbiamo citato prima, il post-traumatic stress disorder piuttosto che la depressione o l'ansia. Allora i due dati da citare importanti sono quelli che riguardano le stime sull'alcol, che oscilla in quota cospicua tra il 17 e il 36% nei setting di rilevazione dei campi profughi, e invece a un livello molto più basso tra il 4 e il 7% nei setting di comunità. è molto più difficile invece sia in relazione all'estrema diversificazione delle sostanze e alla loro correlazione con fenomeni e con fattori di condizionamento socioculturali dare una misurazione complessiva per quanto riguarda le droghe. sta di fatto comunque che entrambe le sostanze, l'alcol o le più diverse droghe hanno un livello di correlazione forte con una tipologia, con una tipizzazione possibile di utilizzatore, che sono i maschi, i migranti maschi esposti al trauma e che presentano altri sintomi legati a disturbi mentali. è evidente che anche questo tipo di valutazione poi deve essere stratificata in accordo con le linee guida della ricerca evidence based rispetto alle diverse categorie di soggetti quando si parla di migranti, cioè di rifugiati, di asylum seekers, di persone spostate, deportate a seguito di disastri o di guerre o di migranti interni. quindi tutti questi fattori di confondimento inevitabilmente pesano tanto sulla possibilità di dare una lettura integrata di questi soggetti e dei loro consumi. dato che però potete vedere in queste due tabelle abbastanza interessanti che permettono subito di rilevare quanto più rilevante appunto sia la prevalenza di alcol in popolazioni molto diverse come quelle che vengono citate nella parte bassa della diapositiva e come invece sia molto più limitato il fenomeno per quanto riguarda le sostanze che non supera tendenzialmente il 5% di prevalenza su popolazioni anche in questo caso molto diverse che vanno dalla Nigeria all'Australia all'Afghanistan e ai loro ovviamente spostamenti verso nazioni altrettanto molto diverse. questo è uno studio molto interessante a mio parere che riguarda la Svezia è uno studio che ci dice molto prima perché è uno studio derivato da una corte molto ampia su un periodo molto lungo quindi quasi 15 anni di studi di soggetti dai 14 anni in su arrivati in Svezia all'interno di comunità locali che ovviamente li hanno accolti con caratteristiche anche queste di forte diversificazione tra l'est Europa e la Russia piuttosto che il Medio Oriente o Nord Africa o l'Africa subsahariana. il dato interessante è il confronto tra popolazione migrante e popolazione locale in questo caso la popolazione svedese i rifugiati e i non rifugiati migranti che quindi si sono spostati per motivi prevalenti economici hanno tassi più bassi per quanto riguarda i consumi di sostanze rispetto alla popolazione nata in Svezia questi tassi peraltro indicano quando presenti una età di esordio molto più precoce e una durata nel tempo più lunga anche a seguito del fatto che questi consumi di sostanze questi soggetti consumatori sono tendenzialmente quelli che hanno periodi di migrazione più lunghi e quindi sono nel paese che li ha accolti da maggior tempo. in sostanza quindi il tasso differenziale è un tasso molto alto nonostante ci siano differenze rispetto alle diverse patologie disturbo post-traumatico da stress ha una prevalenza cinque volte tanto nei rifugiati rispetto alla popolazione nata in Svezia però è molto importante il fatto che nel momento in cui si confronta l'uso di alcol e l'uso delle più diverse sostanze i tassi per i migranti e i migranti e i rifugiati siano oscillino tra il 48 e il 54% in meno rispetto ai soggetti diciamo nati in Svezia quindi questo ci dà una fotografia complessiva di 208 nuovi casi per 100.000 persone per anno rispetto alla popolazione scandinava che è una popolazione all'interno della quale il dato uscilla tra il 270 e i 300 casi per 100.000 persone anche noi abbiamo fatto un lavoro un po' di anni fa abbiamo collegato due dipartimenti di salute mentale valutando a livello territoriale la prevalenza delle problematiche droghe ed alcol correlate rispetto alla popolazione assistita di origine italiana sono quasi 8.000 soggetti 10% circa di questi erano soggetti migranti stabilizzati nei servizi quindi che avevano già preso contatto con i servizi avevano avuto un accesso ai servizi i dati comparativi che vedete qua sono abbastanza illuminanti nel senso che la popolazione italiana ha un tasso di 2.7 per quanto riguarda l'uso di sostanze la popolazione migrante europea sostanzialmente sovrapponibile mentre per quanto riguarda le popolazioni nordafricane abbiamo delle diversifizioni importanti che vanno dal 16% nel nordafrica invece a soltanto l'1.1% per l'Africa subsahariana mentre invece le popolazioni migranti di origine asiatica e americana sono sostanzialmente sovrapponibili alla realtà italiana un secondo studio che noi abbiamo fatto nel nostro dipartimento di salute mentale attraverso i dati del sistema psiche che è il sistema informatizzato lombardo per la salute mentale è uno studio pre-covid che vedete mette a confronto i dati 2017, 2018 e 2019 ci sembrava importante perché il covid ha comunque modificato grandemente i flussi e ha portato anche una forte modificazione dei primi contatti con i nostri servizi questo è un dato che noi abbiamo su 2.436 persone il dato globale che riguarda sia gli italiani che gli stranieri appoggiati ai centri psicosociali del nostro dipartimento con una presenza di migranti di stranieri in questo caso intorno al 18% e vedete un tasso medio di abuso di sostanze intorno al 7% quindi i dati nel momento in cui li siamo a vedere anche in condizioni molto diverse sono abbastanza simili tra di loro, sono abbastanza sovrapponibili questo è il dato più interessante da un certo punto di vista perché è quello che confronta invece all'interno di questa popolazione i soggetti italiani con i soggetti stranieri ed è un dato di forte diversificazione del valore su quel 6-8% precedentemente globale abbiamo una forbice che si allarga dall'8% dei soggetti italiani al 30% dei soggetti, a più del 30% dei soggetti stranieri e nel momento in cui andiamo a fare una diversificazione per quanto riguarda invece le aree di provenienza dei migranti anche qui abbiamo dei dati molto diversi l'Africa la fa da padrone con oltre il 37% per quanto riguarda l'abuso di sostanze i soggetti migranti della Sud America intorno all'11% mentre i soggetti migranti da Asia e da Europa sono sostanzialmente sovrapponibili intorno all'8% allora tutto questo porta a che cosa? e questo è un po' il passaggio finale verso la conclusione della mia relazione e beh porta in primo luogo a valutare quali sono le problematiche che tutto ciò comporta la necessità di ridurre le barriere e le possibilità di richiesta di aiuto di questi soggetti ai nostri servizi questo è uno studio decisamente interessante che sostanzialmente sottolina quattro tipi di barriere nella richiesta di aiuto che sono inevitabilmente lo stigma verso la salute mentale la mancanza di consapevolezza sul problema nelle famiglie e nei più giovani e la mancanza ovviamente di competenze organizzative e culturali per la richiesta di aiuto tutto questo ha inevitabilmente una ricaduta anche sull'aspetto finanziario e economico nel momento in cui non si hanno informazioni non si sa dove si va e non si sa che tipo di richieste possono fare i servizi nel momento in cui si ha necessità di un aiuto sanitario e anche questo studio ci dà alcune suggestioni rispetto a chi può essere utilizzato cioè i facilitatori i fattori di facilitazione rispetto all'ingresso nei servizi che inevitabilmente richiede molto spesso una mediazione importante una mediazione che sia in grado di sostenere questi soggetti un altro lavoro interessante va a misurare l'efficacia e l'accettabilità degli interventi psicosociali rivolti ai rifugiati agli asylum seekers ai migranti in senso lato anche questa è una revisione sistematica del gruppo di Corrado Barbù è molto bene uno dei gruppi che maggiormente in Italia ha dato spazio alla ricerca sui fenomeni migratori e questo lavoro ci dice sostanzialmente attraverso la meta-analisi di studi controllati che gli interventi psicosociali hanno comunque una discreta o buona ricaduta su alcune patologie importanti come il PTSD, la depressione e i disturbi dello spettro ansioso e che riescono anche a tenere al follow up per periodi sufficientemente lunghi questo è molto importante per soggetti che sono esposti a una serie di stressore importanti anche nella fase post migratore purtroppo non ci sono dati da questo punto di vista per quanto riguarda l'uso di sostanze i lavori si limitano a quelle tre patologie principali c'è ancora un interesse abbastanza basso rispetto a quello che sono le ricadute dell'uso di sostanze ma probabilmente la letteratura risente inevitabilmente è di una forte centratura sul disturbo post-traumatico da stress a tutt'oggi inevitabilmente e meno anche sugli effetti autocurativi che come abbiamo detto molto spesso riguardano le sostanze proprio in funzione in primis del disturbo post-traumatico da stress e poi dello spettro ansioso depressivo questo è un lavoro che cerca di fare chiarezza sulla possibilità di offrire e promuovere prevenzione e trattamento rispetto ai disturbi mentali sempre rivolti ai rifugiati e all'interno di questo lavoro si sottolinea quanto sia difficile soprattutto all'interno dei percorsi di promozione individuare e soprattutto far comprendere ai migranti e ai rifugiati le differenze tra prevenzione e trattamento quindi questo è un forte limite che la revisione sistematica sottopone limite che è sicuramente influenzato anche dal contesto dove vengono erogati gli interventi di salute mentale questa è un'altra revisione sistematica questa volta qualitativa che sostanzialmente enfatizza la necessità di investimenti per rendere più flessibili ed allargare in un certo senso lo spettro delle opportunità per questi soggetti proprio a partire dalla necessità di garantire un supporto di fronte alle situazioni di maggiore pressione psicologica e stress correlato e soprattutto di mantenere una visione ampia per quanto riguarda le differenti concezioni culturali sulla salute mentale che queste popolazioni hanno tutto questo ha portato anche un gruppo di lavoro internazionale a proporre in questo recente lavoro appena uscito in aprile sulla riorganizzazione dei servizi per i disturbi correlati a sostanza in tempo di pandemia globale lo vedete che al punto quinto non ci si è dimenticati di sottoporre all'attenzione dei policy makers e degli operatori la necessità di specifiche indicazioni per le popolazioni vulnerabili in primis i migranti e i rifugiati pochi minuti finali del mio intervento per dare una fotografia di quello che è la realtà del nostro servizio della SST di Monza questo è il progetto anzi due progetti il progetto FAMI e il progetto FAMI Care che abbiamo avuto finanziati in questo periodo come è ben noto i progetti FAMI hanno come obiettivi la tutela da salute dei richiedenti protezione internazionale e rifugiati in situazioni di vulnerabilità la possibilità di assicurare l'introduzione di un sistema condiviso di rilevazione delle vulnerabilità l'intervento attraverso il rafforzamento della governance del territorio su questi temi e se possibile la definizione di linee guida territoriali ci sono tutta una serie di criteri di accesso di criteri di esclusione che sono abbastanza omogenee nei progetti FAMI nazionali e che magari lascio alla lettura più specifica delle diapositive qui abbiamo due dati sulle aree di provenienza fondamentale e prioritario è quella africana, subsahariana, nigeria al 32% a cui segue il Pakistan con l'11% e il Gambia ancora con l'11% e poi una sintesi dei cluster diagnostici prevalenti dove vedete in questo dato molto recente che riguarda gli ultimi due anni del FAMI ancora una volta i disturbi correlati a sostanze i disturbi di addiction oscillano intorno al 6-7% come già dichiarato in molta della letteratura internazionale esaminata e anche nei nostri lavori precedenti mentre vedete che la forbice con i disturbi correlati a eventi traumatici è stressante e drammatica in quanto in questo caso il dato è intorno al 62% con un 45% di disturbo post-traumatico da stress e un 17% di disturbi dell'adattamento il modello di presa in carica è un modello che prevede colloqui di prevalutazione grazie a uno strumento australiano che noi abbiamo tradotto e che stiamo utilizzando che sembra trovare un'ottima risposta non solo negli operatori perché è molto semplice non ha la necessità di essere sottoposto al migrante da un clinico ma anche perché ha una sua possibilità di confronto con una letteratura internazionale dove questo strumento la Star MH è stato utilizzato ai colloqui di prevalutazione in caso di presa in carico segue la tradizionale formazione di una micro-equipe che è a disposizione delle strutture territoriali con l'individuazione di un case manager con tutti i compiti che gli sono abitualmente affidati lo Star MH è semplice da somministrare come abbiamo detto è per operatori non sanitari ed è specifico per la valutazione del disturbo depressivo del disturbo post-traumatico da stress perché è stato validato su queste popolazioni e quindi molto utile da un certo punto di vista per una valutazione preliminare alla valutazione specialistica che avviene poi all'interno dei servizi di salute mentale i trattamenti erogati per i soggetti per le più diverse patologie sono all'interno di percorsi psichiatrici individuali presso i CSM e una gestione culturalmente mediata della farmacoterapia che viene associata sempre a percorsi di sostegno psicossociale e a colloqui di tipo socioeducativo chiudo con tre warning importanti della Società Mondiale di Psichiatria uno è rivolto ai professionisti dobbiamo conoscere questi problemi dobbiamo addestrarci su questi problemi dobbiamo allargare la conoscenza all'interno della popolazione generale su quello che sono le fenomeniche legate alla migrazione per combattere lo stigma e per agevolare i nostri servizi nella presa in carico di questi utenti ci sono tutta una serie di informazioni che questo documento che vi invito a scaricare dal sito della Work Psychiatric Association ci offre ovviamente tra i punti importanti che ho voluto sottolineare ancora una volta quello dell'accesso e l'uso dei servizi di salute mentale ai quali molto spesso i soggetti non riescono ad arrivare per un'adeguata informazione per un insufficiente supporto per la mancanza di trasporti talvolta perché non è detto che i luoghi dove questi soggetti sono collocati siano vicini ai servizi o per una confusione rispetto all'identificazione o all'identità meglio di questi servizi all'interno di culture come ho detto in precedenza che non conoscono il concetto di salute mentale o che interpretano diversamente da noi il concetto di salute mentale un punto fondamentale la Work Psychiatric ce lo dà sulla confidenzialità per quanto riguarda le prese in carico di genere quindi delle donne, migranti soprattutto alla luce delle molteplici segnalazioni di morti nelle migranti donne per i più diversi motivi in primis anche la difficoltà di gestione delle gravidanze questa è l'ultima ed è un richiamo all'elenco dei diritti dei migranti con disturbi mentali che la Società Mondiale di Psichiatria ha lanciato nel corso dell'ultimo congresso mondiale di psichiatria che si è tenuto online ed è un warning importante per tutti noi un tentativo di sensibilizzazione fondamentale per gli operatori della salute mentale affinché non dimentichino a questo tema e che possono sempre più investire risorse nell'attenzione verso questi soggetti vulnerabili vi ringrazio per l'attenzione Beh Raffaele sono dati molto interessanti tra quelli internazionali e quelli che ha presentato di Monza rispetto alla dipendenza una differenza tra il 32 e il 6% sarà che il nostro ambiente il nostro territorio italiano in qualche modo più accogliente deve limitare questi fenomeni ehm vista la tempistica come dici di procedere? Direi che possiamo fermarci qui i dati e gli orari eventualmente credo che eh ci sarà modo di aprire il dibattito anche nei prossimi incontri che io ricorderei il prossimo quello del 17 gennaio dove si fa il punto sul contributo dell'etno psichiatria e quindi entreremo anche un po' nella clinica del del lavoro proprio clinico con con i pazienti migranti e e appunto il contributo che l'etno psicanalisi o l'etno psichiatria può eh dare alla comprensione dello specifico della della condizione di sofferenza della professione migrante io direi che ringraziando in in effigie come si dice Cleri e invece Massimiliano che è qua grazie ehm per questa ricca ricchi contributi ci aggiornerei alla che dici Giulio sì certo eh Paolo Cianconi praticamente con questo suo intervento eh il suo intervento eh che era previsto come ultimo se non sbaglio sì ma Paolo ha avuto un problema e poi allora ricco cercheremo di di recuperarlo di recuperarlo in altro eh momento aggiungerei questo messaggio che è arrivato dalla regia che tutto il materiale è visionabile sul sito quindi a tutti quanti coloro che vogliano rivedere o approfondire tutto il materiale che è stato presentato è visionabile sul sito però abbiamo forse ancora un po' di tempo devo dire forse per qualche riflessione che eh credo che a questo punto possiamo fare tra di noi e vedere se se qualche se qualche collega si eh magari ci prendiamo una decina di minuti considerando che non c'è Paolo che dici Giulio perché io almeno due questioni e e e Massimiliano sa che una mi è particolarmente cara e che credo possa riguardare anche molti colleghi che che ascoltano qui ed è quello eh di un'indicazione sull'uso della mediazione culturale perché al Samifo mi pare di capire c'è un'esperienza in cui hanno una stabilità dei mediatori la possibilità quindi di costruire equipe piuttosto eh come dire conosciute tra tra gli operatori e anche una pluralità di lingue e di contesti di provenienza ma eh insomma non 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 tutti i servizi si trovano in questa situazione e quindi il eh sai che in termini angolo sasso il boxing il culture boxing cioè di di costringere poi dei soggetti a essere avere queste interpretazioni da persone che magari non hanno questa grande vicinanza né culturale né linguistica e e anche la la come dire la la prossimità tra il mediatore e il clinico talvolta è molto limitata quindi ci sono delle indicazioni che vorresti dare Massimignano su questo aspetto visto che hai sì grazie e ovviamente il tema è molto ampio e meriterebbe una discussione approfondita però andando per per punti chiave e intanto ricorderei che chi lavora con l'immigrazione deve necessariamente mettersi in testa che la parola chiave fondante è flessibilità il che non vuol dire non avere struttura però essere molto flessibile nel senso che come tu ricordavi servizi diversi hanno possibilità diverse e quindi possibilità anche molto diverse di di fruire dei mediatori e di come fruire dei mediatori e ovviamente se tu hai la possibilità di avere tante lingue con un'equip presente stabile ben formata che con la quale hai un'assiduità di lavoro questo è senz'altro un elemento positivo e la controparte che può essere un po' limitante è che se tu hai questa equip così ben formata ma è rigida poi se ti arriva una persona da una provenienza che non è quella della tua equip comunque potresti andare in difficoltà perché non non copri quell'area e lo dico perché come ricordo l'avevo già detto prima noi siamo in mezzo al Mediterraneo e in qualche modo esposti ai venti della geopolitica cioè ci possono arrivare da un anno all'altro persone con nazionalità lingue provenienze estremamente diverse e quindi non saprei dire cos'è meglio in assoluto certamente è un valore quello di avere un'equip ben formata stabile eccetera però anche la capacità di avere un mediatore a chiamata saperlo formare al volo in quei dieci minuti prima che cominci il colloquio cioè fargli capire in pochi punti quello che ti aspetti da lui e monitorare la situazione e quindi riuscire a capire quello che ti sta dando e poi magari avere un attimo di debriefing di discussione dopo questo è anche molto importante perché molti servizi ad oggi hanno la mediazione a chiamata è molto problematico invece quando non c'è una mediazione professionale per niente quindi avviene l'amico viene il familiare allora lì il rischio di inquinamenti tra vari livelli è assolutamente fondato ampio e lì bisogna stare un pochino attenti mi ricordo ad esempio casi di mariti che volevano entrare per forza con le mogli con la scusa di essere da molti più anni in Italia per poter tradurre e poi in qualche modo come dire mettevano dentro un controllo della situazione e anche accompagnatori di donne trattate a volte che cercano di entrare in seduta per con la scusa che fanno da mediatore per per in realtà controllare quello che la donna dice e essere sicuri che non li denunci e stesso problema quando la madre che magari ancora non parla bene in italiano ti porta un bambino che essendo scolarizzato essendo di più piccola età quindi anche con una maggior propensione a imparare la lingua ti porta il figlio a tradurre quindi anche con un'inversione dei ruoli e credo che sia molto importante chiarire al mediatore quello che ti aspetti da lui e poi avere in testa bene quanto devi allargare sul piano culturale e quanto devi rimanere sul piano linguistico perché non tutte le sindrome psichiatriche hanno necessità di un unico tipo di approccio quindi su alcuni piani ti allarghi molto sul piano culturale hai bisogno che il mediatore non sia soltanto un traduttore linguistico ma ti possa dare quello sfondo molto più ampio di contesto socio-culturale all'interno del quale quei fenomeni che stai osservando si situano e altre situazioni in cui invece questo ti è meno necessario e magari ti è più necessaria una traduzione letteraria pensate ad esempio a disturbi del linguaggio della schizofrenia se stai facendo una valutazione di un paziente devi capire se quella persona ha degli elementi di spaltung di alterazione formale dei nessi associativi e lì se il mediatore non ti traduce bene letteralmente quello che ti sto dicendo quella parte te la perdi quindi secondo me quello che è importante sottolineare è che il mediatore possibilmente deve essere formato e ben formato però poi la responsabilità dentro la stanza è quella del clinico che in qualche modo deve sapere come utilizzarlo e quanto fino a che punto utilizzarlo non ultima anche la responsabilità da parte del clinico della protezione del mediatore perché ricordiamoci sempre che il mediatore non è detto che abbia la nostra formazione la nostra dimostichezza con le problematiche di salute mentale e nel caso di persone che hanno vissuto i traumatici non è detto che nella propria storia non possa avere degli elementi che derivano dalla propria storia migratoria che entrano in risonanza con quello che dà il paziente e quindi come dire di nuovo è responsabile del clinico cercare di capire anche queste dinamiche e cercare di tutelare anche il mediatore che sta lavorando con lui Giulio prima di lasciarti la parola voglio ancora porre una domanda molto tecnica diciamo così a Massimiliano ed è questo come vi regolate voi in valutazioni tipo cognitivo con pazienti poco nulo scolarizzati questo è un grosso tema è un grosso tema guarda l'esperienza maggiore su questo campo c'è la Anna Maria Petta che tu conosci che è la persona che ha fatto più estesamente valutazioni cognitive e anche ha provato a fare un training di riabilitazione cognitiva in alcuni casi e ha accumulato vari dati il problema è che la valutazione cognitiva è sempre problematica perché vuoi perché le persone traumatizzate hanno anche problemi di interferenza cognitiva vuoi perché ci sono problemi culturali vuoi perché ci sono problemi di livello di educazione non è che tu prendi le tabelle che valgono per la popolazione anglosassone e le app ti fai le medie perché se fai così c'hai un livello di neuropsicologia di patologie neuropsicologiche elevatissime nell'utenza soprattutto parlo di quella africana che è quella che abbiamo studiato più a lungo con lei e il problema è che poi questi dati sono difficili da formalizzare da pubblicare proprio perché difficilmente riesci ad avere un gruppo di controllo che sia come dire simile in tutte le variabili tranne quelle che stai cercando e quindi poi insomma molti di questi dati rimangono esperienze ancora non totalmente pubblicate non so se se lo stesso problema però si pone anche quando i tribunali ti mandano le persone a fare le valutazioni di capacità genitoriale o le valutazioni di personalità e magari il servizio gli vuole dare l'MPI insomma i risultati di un'MPI fatta a una persona che viene da un altro mondo parla un'altra lingua eccetera eccetera io li prenderei molto con le pinze insomma ma ne credo che sia mai possibile completarlo qualcuno di di quei test eppure ci sono servizi che se non fai quello non non vai allo step successivo comunque se Raffaello mi permette poi ma con questo corso con le altre iniziative noi credo che valga un impegno fondamentale al trasferimento di know-how nelle aree nei centri quindi per presso i dipartimenti dove deve diventare un po' più sistematica l'abitudine all'interculturalità debba diventare come dire normale in una condizione normale la capacità di accoglimento quindi proprio tutta la cultura dell'intermediazione culturale dovrebbe essere un po' più diffusa le esperienze che tu hai portato avanti nell'INMP quelle stesse di Massimo eccetera dovrebbero più sistematicamente formare altri centri altri servizi noi ora faremo un discorso dal confronto con i dati che tiriamo fuori da questa ricerca a altri aspetti di sviluppo tematico da queste quattro giornate vero Raffaele l'ideale sarebbe probabilmente anche ripensare a delle formazioni più sistematiche e locali assolutamente d'accordo appunto tra altre cose devo dire la verità su questo aspetto della valutazione cognitiva soprattutto forse il tentativo anche di fare un po' una riflessione e trovare strumenti diciamo non basati su competenze linguistiche potrebbe anche essere uno sforzo interessante che come tu sai nel progetto pending abbiamo trovato diversi casi di situazioni in cui c'era un problema di valutare diciamola i recorsi cognitivi ma voglio dire altri aspetti sicuramente possono venire fuori nei diversi contesti compresi quelli che sono stati diciamo evocati prima in particolare Massimiliano sulla diagnosi differenziale tra suo post-traumatico da stress e ricorda bene che dicevi diagnosi di psicosi diagnosi di psicosi sì sì purtroppo è frequente l'avete visto un po' in controluce anche nei report epidemiologici che hanno presentato i vari autori dei vari studi eccetera eccetera c'è sempre quella parte delle psicosi che riemergere non si capisce se sono di più se sono di meno ma molto spesso dentro quella casella ci viene messa roba che non è ben chiara e noi abbiamo fatto uno studio qualche anno fa con i colleghi della società di medicina delle migrazioni e sui ricoveri psichiatrici in Italia abbiamo fatto dal mi sembra dal 2008 al 2015 e insomma non vi sto a dire tutti i dati ma un dato molto interessante che risultava è che negli italiani la prima diagnosi era schizofrenia la seconda bipolare la terza disturbo di personalità nei rifugiati che noi siamo andati a cercare eccetera eccetera la prima diagnosi era psicosi non altrimenti specificata che è come dire come se gli stessi clinici che in qualche modo li ammettevano dicevano questo sta di fuori sicuramente siamo in un ambito di patologia di grande gravità ma lascio una diagnosi molto aperta e non specificata proprio per perché non ho ben capito e ben evito di forzarla quindi secondo me questo è già un dato che come dire implicitamente ti dice molto ma signora permetti quindi di richiamare anche un po' quelle che erano le linee guida su cui abbiamo lavorato insieme nel progetto ZECARE certo è che se in molti casi rapporto d'ingresso LSPDC con un paziente in fase acuta di cui non si sa quasi nulla con problemi di ordine linguistico senza possibilità di attingere la sua storia clinica da parte di familiari o conoscenti veramente insomma la possibilità di una valutazione più puntuale mi pare sia molto 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 difficile quindi e proprio per questo dicevamo anche le nostre linee guida quanto è importante intercettare precocemente queste forme di disagio per poter costruire una relazione anche di comprensione del disagio una valutazione anche più puntuale di quello che è il comportamento del paziente nelle strutture di accoglienza insomma altrimenti è veramente un po' un'impresa disperata quella di riuscire a fare una diagnosi in quelle condizioni sovente magari poi il mediatore culturale quando c'è arriva dopo che è stata già impostata una terapia di tipo psicofarmacologico insomma poi lo sai meglio di me insomma quali sono le condizioni sì esatto poi si ci ritrova dunque nella chat se posso aggiungere un ulteriore problema che sto notando ultimamente e che è anche rispetto ai periti i quali oltre la produzione di agnostiche discutibili nelle perizie riportano colloqui con punti interrogativi di fianco ad affermazioni con chiari riferimenti culturali questo lo scrive Valentina Bardini ecco io non so qualsiasi siete più esperti voi potete leggere nella chat ed eventualmente commentare qualcosa alla collega io non so che commentare però cioè non so sono cose molto specifiche cioè punti interrogativi non so su cosa sono come che c'è ci dovrebbe essere modo di credere che intanto i giudici i tribunali si servano di periti che abbiano già una competenza e un know-how per quella specifica lingua quella specifica etnia o o altro non mi sembrerebbe strano affidare poi a una persona che non ha alcuna competenza e capacità di comprensione del linguaggio io credo credo che mi pare che voglia segnalare che credo io interpreto così che insomma si 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 voglia sottolineare una specificità culturale in maniera ambigua che credo magari Valentina può intervenire se vuole per per renderci più chiaro il suo il suo pensiero ma insomma si vuole fare riferimento a qualche come dire presunta come si chiamava culture con related sindrome correlata culturalmente ma in maniera proposta per allusioni più che in maniera esplicita credo che questa possa essere quindi un ulteriore elemento di complessità poi nel fatto che non c'è una chiarezza diagnostica e e si si navica in una condizione più ma Valentina vuole intervenire no preferisce lasciare alla chat la sua le sue considerazioni io mi avvierei alla chiusura direi anch'io ah no ci risponde che non funziona il microfono va bene in un modo in un'altra situazione Giulio a te l'onore di chiudere ah che bell'onore no grazie tante veramente già questo primo incontro sottolinea quello che volevo proporre proprio come richiesta ai relatori esperti cioè che ci sia poi un'ulteriore guida per pensare per immaginare quanto si può fare per i dipartimenti nei quali esiste maggiormente questo problema molti dei dipartimenti di salute mentale del sud Italia ce l'hanno proprio rispetto proprio inizialmente agli ingressi quindi momenti dove forse diventa anche più utile un approfondimento di uno screening in questo senso ma passare dalla come dire assistenza ad una popolazione che così cerchiamo solo di riconoscere o di tollerare o di integrare noi dovremmo fare qualcosa di più cioè sono i nostri servizi i nostri centri la rete per la salute mentale italiana che deve diventare tutta interculturale quindi oggi è stato già chiaramente lanciato un messaggio molto evidente che il problema ha una sua consistenza che ci sono non solo le competenze ma dati a supporto di tutto questo facciamo in modo che nella parabola che si compone fino a marzo duemila e ventidue abbiamo anche modo di pensare a questo ulteriore sviluppo e questa ulteriore prospettiva io con questo lascerei oggi il con un grazie forte a chi ci ha seguito più di ottanta persone e e ai relatori dando l'appuntamento ricordandocelo chiaramente il 17 gennaio il contributo dell'etno grazie a tutti Giulio permettimi di dire che visto che siamo in prossimità delle festività che chiamiamo secondo le indicazioni il politicamente corretto festività stagionali ma il buon anno si può sicuramente dare a tutti indipendentemente dalle culture di appartenenza e per chi diciamo consuetudine con il Natale diamogli anche il Buon Natale grazie Raffaele grazie a tutti ciao grazie ciao buon Natale a tutti a tutti grazie a tutti Grazie.